e ora andiamo a Santa Maria Nuova fino a domenica atleti in pista per la sei giorni rotellistica 200 i patinatori che si sfidano per conquistare la maglia aragosta in programma anche le gare della European Cup unica tappa in Italia il servizio di Maria Itri sfrecciano su una pista molto particolare tracciata sul tetto del palazzetto sportivo sono gli oltre 200 atleti che partecipano alla sei giorni rotellistica di Santa Maria Nuova i patinatori che hanno sfilato nel corso della cerimonia di inaugurazione attraversando il paese arrivano da 11 nazioni e 15 regioni italiane tra loro l'azzurra Francesca Lollobrigi da campionessa del mondo in diverse specialità vengono persone a vedere quindi magari se non è solo un giorno o due hanno tempo una settimana per venire a vedere poi questa è anche una bella pista ha una tradizione alle spalle perché io mi ricordo che ho corso qui anche all'età di 9 anni i primi due giorni sono dedicati all'European Cup unica tappa italiana tra le otto previste dal circuito la sei giorni rotellistica ripresa lo scorso anno dopo un periodo di ublio e testimonia la forte passione per questa disciplina nelle marche tra le atlete marchigiane in pista Naís Pedroni di Monte Prandone e Linda Rossi di Senigallia il patino da quando sono nata possiamo dire davvero è stato un amore a prima vista e da quando l'ho messa i piedi non li ho più tolti è ricco di adrenalina, c'è gioco di squadra, tattiche quindi è molto impegnativo anche a livello mentale quindi mi piace molto questo tra gli eventi collaterali nel corso della sei giorni è anche un convegno organizzato dal CONI sulle dipendenze da videogiochi e cellulari dei giovani è una serata dedicata allo sport paralimpico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti